Sarà un sabato pieno di iniziative solidali, quello che attende la città di Cosenza. L'amministrazione comunale ha promosso due eventi. Il primo si svolgerà alla Villa Nuova e si chiama Banco Primavera. Si tratta di una raccolta di fondi che ripete un'iniziativa di solidarietà già realizzata nel periodo natalizio. Alcune associazioni faranno una raccolta fondi specifica, nuovamente per buone spese a sostegno di famiglie indigenti e ci saranno anche altre associazioni che faranno promozione per se stesse, sono delle onlus, delle cooperative sociali e avranno l'opportunità di mettere in piazza nella Villa Nuova questi prodotti loro, delle merci e devo ringraziare prima di tutto la FIDAPA, devo ringraziare Meda Canabria che si sono date molto da fare per consentire la realizzazione di questa manifestazione. In piazza 11 settembre ci si occuperà invece del tema della donazione degli organi. Il 31 maggio è la data che è stata stabilita con decreto del Ministero della Salute come giornata nazionale della donazione degli organi. A questa giornata il Ministero della Salute invita anche le istituzioni pubbliche a partecipare ad eventi, convegni o comunque manifestazioni per rimarcare questa necessità che c'è ancora oggi di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione degli organi perché senza donatori i trapianti non si possono effettuare quindi i pazienti in lista d'attesa rischiano di non poter continuare a vivere. Avremo un gazebo in piazza 11 settembre, staremo in piazza dalle 9 di sera per chi volesse avere qualche informazione maggiore può venire a trovarci.